Arrivò finalmente su Disney Plus Loki, la nuova serie tv dedicata al dio dell'inganno che rivede Tom Hidderson nei panni del protagonista. Il Loki che andiamo a incontrare in questa prima puntata non è il Loki di Infinity War, quello che aveva compiuto un percorso di crescita insieme a suo fratello, è bensì il Loki del primo Avengers, quello che vendiamo in Endgame scappare con il Tesseract durante la riconsegna del Tesseract nel suo momento temporale. Cosa succede? Succede che la TVA, Time Variance Authority, bloccherà questo Loki fuggitivo e lo costringerà a collaborare con loro per fermare delle variabili impazzite nello scorrere del tempo. Quindi ci ritroviamo davanti a un Loki che ritorna indietro come processo di crescita e è costretto a riaffrontarlo e soprattutto sarà costretto a inseguire tutto quello che ha fatto di buono per il mondo per tornare ad essere l'ultimo Loki che avevamo conosciuto e amato. Un'ottima serie con un pizzico di Dr. Wu che può solo dare aiuto a qualcosa che sicuramente sembra molto interessante.